A prebattenti sabato la sala operatoria del canile municipale di Nocera Inferiore, una conquista senza precedenti per i volontari che da anni si dedicano anime e corpo alla struttura e ai suoi ospiti. Una battaglia vinta anche per l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore in campo, nonostante le difficoltà economiche. Il canile di Nocera è notoriamente, grazie al lavoro dei volontari e anche alla parte pubblica che sta facendo il suo ruolo, ci viene riconosciuto notoriamente anche per il mio affetto nei confronti degli animali, non solo degli animali, diciamo anche degli animali, viene inaugurata la nuova sala operatoria del canile di Nocera e questo è un motivo di vanto, di orgoglio e anche di soddisfazione morale vista l'attenzione che noi abbiamo nei confronti degli amici fedeli. E la sensibilità verso gli amici a quattro zampe consta anche di un irrigidimento dei controlli e delle sanzioni per quei padroni indisciplinati che consentono alle loro bestiole di lasciare indisturbati i loro bisogni lungo strada e in marciapiedi. Ci sono alcuni punti della città che periodicamente, non si sa in virtù di quale padrone di cane, vengono imbrattati. Adesso, e tocca a questo asseviario, lo leggevo dal giornale, noi abbiamo adottato un'ordinanza specifica di sanzioni, quindi tutte le forze dell'ordine, ma dico anche tutti i cittadini, sono invitati a fare la propria parte. I cittadini a non far imbrattare i marciapiedi delle strade. Le forze dell'ordine ad elevare le contravvenzioni, Polizia Municipale in testa a fare questo lavoro. Poi è chiaro, non è che si riesce a stare dietro tutti i cani, talvolta ci sono cagnolini o cani che vanno in giro da soli, quindi senza neanche accompagnati dal padrone. Grave quando vengono accompagnati dal padrone che non si dà cura di mantenere purita la strada. Quindi l'invito lo rivolgo di nuovo, ma soprattutto il fermo proponimento che la Polizia Municipale faccia, gli agenti di Polizia Municipale non si distragga, magari nel momento in cui svolge la propria attività di vigilanza, ma sia molto attenta anche a sanzionare.